Exoraticso, oggi vi presento il nostro ultimo arrivo, si tratta della Opel Corsa 1275 CV in questo allestimento Design & Tech. Cerchi in lega da 16, la vettura è lunga 4,6 m e alto 1,43 m. Spostandoci verso un bagagliaio, troviamo la luce di cortesia sulla sinistra, bagagliaio molto capiente con predisposizione del ruotino di scorta, sedili abbattibili per 2 terzi e 1 terzo. All'interno la vettura è molto capiente, troviamo gli attacchi Isofix in entrambi i sedili, in questo tessuto nero con il dettaglio delle rifiniture grigie e bianche. Anche davanti lo spazio non manca, troviamo sempre gli stessi sedili in tessuto nero con le rifiniture bianche e grigie, volante in pelle a tre razze con la possibilità di gestire il volume e il limitatore di velocità, cruscotto, touchpad tutto digitale con la possibilità di gestire l'infotainment, gestione del clima, cambio manuale a 5 marce più la retro, freno di stazionamento manuale e troviamo comodissimi vani porta oggetti sia qui che qui e i cristalli sono tutti elettrici. La vettura è stata immatricolata nel 2022 con 27.000 km. Trovi questo e moltissimi altri percorsi sul nostro sito ratix.com Grazie.